Arriva da Luchon e arrivava a Bayonne, c'erano i soliti quattro colli che qui sono soprannominati i quattro moschettieri anche se oggi fino a questo momento hanno ferito poco, diciamo così, hanno colpito poco nell'ambito della corsa anche se abbiamo avuto questo tentativo di Elie e Massi e da quel momento il Tourmalet, l'Obisque, la Spena e il Peresur sono diventati un po' dei punti fermi della vicenda del Tour de France. Ed eccoci con Maier in quadrato, la situazione, tre uomini sempre al comando e poi all'ora in seguimento, Davide, la situazione. La situazione prevede, allora a Rinero due minuti e dieci, a tre minuti e dieci ci sono sei corridori, Di Grande, Piepoli, Alonso, Solan e Bordenave e un sesto corridore poi a quattro minuti e trenta un altro gruppetto, il gruppo un po' più distaccato ma sta guadagnando terreno. Ed eccoci sui tre uomini al comando, questo è Rodolfo Massi, leader della classifica del Gran Pelletto della Montagna Vassor, Cedric Vassor, figlio di Alain che correva all'epoca di Gimondi. Ti ricordi il suo padre? Alain Vassor, certamente me lo ricordo, Solan è stato prodotto il protagonista di una tappa di Gap e correva nella big del Grande Jacques. E vinse la tappa, tutti e due hanno vinto una tappa al Tour de France proprio lanciandosi all'offensiva come ha fatto questa mattina Roscioli nei primi chilometri. Tre uomini in attacco, Cedric Vassor, Alberto Elli, Rodolfo Massi sono in fuga praticamente dal primo Gran Premio della Montagna. Una grande impresa, un'impresa di grande spessore atletico. Veramente, hanno fatto un grosso numero. Adesso sono un po' stanchi però non hanno calato troppo l'andatura. Adesso però il gruppo sta venendo sotto. Se ci saranno attacchi importanti verranno raggiunti. Altrimenti potrebbero anche farcela, o almeno uno di questi potrebbe farcela. Il più fresco dei tre mi sembra Alberto Elli, anche se Massi un po' in difficoltà sul Tourmalet, sulla Spe ha ritrovato un po' di brillantezza. E a proposito di uomini lanciati così in avanscoperta a cercare nuovi percorsi, vorrei ricordare a Piccione, ecco, se ti capita di passare sul Mont Ventoux. Ecco, superata la vetta, guarda, c'è una targa che dice che il primo uomo che abbia scalato a piedi il Mont Ventoux è stato Francesco Petrarca quando nei primi anni del Trecento era da Vignone alla Corte del Papa. Sì, un precursore, insomma, degli organizzatori del Tour de France. Beh, in effetti oggi è sempre più difficile scoprire percorsi. E tra l'altro bisogna dire che i percorsi sono diversi perché le strade sono quasi tutte asfaltate. Recentemente abbiamo sentito che anche l'ultimo tratto di Gavia, un colle storico per il Giro d'Italia, appunto, ci sono dei lavori in corso e anche l'ultimo pezzo di Gavia sta per essere asfaltato. Insomma, anche questo conta, non c'è più la leggenda, è un po' il nostro territorio è stato battuto, è scoperto e il lavoro degli organizzatori è sempre più difficile. Intanto abbiamo visto Biondi, il direttore sportivo della Casino, è stato ottimo pistare, anche campione del mondo in pista che abbiamo visto nell'individuale appunti. È stato uno dei primi grandi interpreti della pista di Grenoble. Vediamo che Massi e Elly si stanno parlando mentre siamo a 500 metri dallo sprint di Bordeaux-Luron. Mancano 28 chilometri alla conclusione e sono stati percorsi 168. Qual è la tattica che avrà suggerito Laurent Biondi ai suoi due corridori? Ma avrà voluto sapere delle condizioni fisiche dei due e eventualmente avrà suggerito a quello che sta peggio di sacrificarsi per l'altro. Di solito si fa così quando ci sono due compagni di squadra, non c'è bisogno che lo dica il direttore sportivo perché Massi e Elly sono due esperti, sono bravissimi e quindi avranno già loro scelto la tattica da fare. La domanda potrebbe essere cattiva se non conoscessimo la lealtà, la serietà di Massi ed Elly ma un corridore dice la verità, vediamo, non c'è praticamente sprint, passano nell'ordine. Vassor poi in seconda posizione, Elly in terza, Massi anche perché non ci sono più Abuoni a partire dalla nonna tappa. Vogliamo ricordare a proposito degli Abuoni che nessun pretendente alla maglia gialla finale ha conquistato Abuoni. Il corridore, mentre vediamo Ludo Bolsi, il corridore che ha ottenuto più Abuoni è il rappresentante della Repubblica Ceca, anzi il campione nazionale Svorada. Allora la domanda è questa, i corridori sono portati a dire la verità. Ripeto, non è il caso ride Gimondi, se non è il caso subito, ma il più nella vita. Ah sì, bugiardo. Sempre la verità. Infatti prima un giornalista mi chiedeva, ma ai vostri tempi voi prendevate qualcosa? Io ho detto di no, però ho anche detto, chi non ho mai peccato, scagli la prima pietra. E in quel momento ti si è allungato il naso. A quel punto io ho detto, adesso vado a vedere la corsa. Bravo, bravo. E qui hai trovato uno che ti riparlava ancora di l'occhio. No, per carità. Allora, la corsa adesso c'è Epner che tira della Telecom e c'è anche Olano in terza posizione. C'è Olano e Gimenez. Intanto vediamo Leger che parla con il proprio corridore Cedric Vassera. Molto bravo Vassera quest'oggi. L'anno scorso è stato per cinque giorni maglia gialla e l'ha perse sui Pirenei quando ad Arcalis, ad Andorra, attaccò Ulrich. Ulrich che vinse la tappa ed indossò la sua prima maglia gialla. E intanto vedete che la regia vi ripropone Vassorelli e Massi l'ordine dei passaggi nello sprint a punti. Ripetiamo, non ci sono più a buoni. Leger e tutti gli altri direttori sportivi si sono schierati tutti contro Bruno Roussel. La cosa un po' scioccato. Io penso che vale la frase che ha detto adesso Felice Gimonde, che senza peccato scaglie la prima pietra. Più che dare delle colpe secondo me la cosa migliore adesso sarebbe quella di riunirsi, parlare, direttori sportivi, sponsor, medici, organizzatori per risolvere questa situazione che è diventata abbastanza, diciamo, per... Brutta, l'ha sempre stata. Intanto nelle prime posizioni abbiamo visto anche Ferrigato. Ferrigato sta andando molto bene. Al giro non ha ottenuto granché. Ferrigato che ha ottenuto la sua stagione migliore un paio di anni fa quando vinse due gare di Coppa del Mondo. Vinse il Gran Premio Suisse in Svizzera e vinse, mi sembra, in Inghilterra. Però sono curioso di vedere cosa farà la Banesto. Banesto che ha, a parte che ha due uomini al contrattacco, si tratta di solo una e Alonso, però i due capitani sono Gimenez e Olano. Olano che in salita fa sempre fatica, mentre Gimenez che in questo momento è in seconda posizione è uno tra gli scalatori più forti della Spagna. Intanto nelle prime posizioni ho rivisto Bjarne Ries. Bjarne Ries che si era un po' confuso nella pancia del gruppo in salita e adesso è là avanti a tirare. Il che vuol dire che Ries accetta il nuovo ruolo che gli sta per essere assegnato? Per forza è costretto ad accettarlo. A cronometro è andato piano, ha preso tre minuti da Ulrich e quindi può essere una valida spalla per il campione tedesco. Lo è stato anche l'anno scorso perché nella tappa di Courchevel lo aiutò tantissimo, scandì il passo per lui sulla gran parte della Col della Madlene e anche nelle prime rampe di Courchevel. Adesso questo è Roland Meyer che è transitato traguardo volante con un distacco di 3 minuti e 30 secondi. Cofidissa che è un'ottima squadra, nonostante abbia perso Francesco Casagrande, può contare su Rinerot, su Roland Meyer e su Ulrich. che è una sorpresa di questo tour, l'anno scorso arrivò quarto nella cronometro, però è un corridore in evoluzione, ha degli margini di miglioramento. Poi c'è anche questo Livingston, altro americano, che è un ottimo corridore. Livingston però ieri ha avuto un cedimento, anche Hamilton, diciamo che dopo una bella prova a cronometro incominciano a dimostrare la loro inesperienza. Allora ecco la situazione, tre uomini al comando, poi Roland Meyer a 3, 12 a 3, 54 il gruppo, quindi vediamo che si scambiano le borracce. La bella azione di Roland Meyer, ricordiamo sono i due in Meyer, ecco qui vedete la situazione. Attenzione perché a 2.42 c'è ancora il gruppetto con Piepoli e di grande, non sono ancora in avanscoperta, stanno perdendo terreno, il gruppo adesso sotto l'impulso di Tocnic e di Eppner sta guadagnando, però no, ho paura proprio che non ce la facciano. Pensandoci bene, ho paura di ora perché c'è il Perez-Urdra, è una salita che non è durissima, però è abbastanza lunga, gli ultimi 4 chilometri sono micidiali perché non c'è una curva, sono i rettilini. Scusa, ecco lì Ries che stava spiegando qualcosa agli altri, mentre vedete che Ulrich si sta dissetando. Hamburger. Hamburger nelle prime posizioni, mentre come al solito, ecco qua Nardello, lo vedete senza Berrettino, Berzin, anche Berzin nelle prime posizioni, e questo qua è Alex Merckx con Leblanc, poi eccoci con Jax con il giovane tedesco, eccolo lì Simeoni, poi eccolo qua, ecco Borgheresi, Pantani, abbiamo parlato prima di Bandane, il primo a portare la Bandane è stato proprio, mentre ecco Teteriuk il casacco, eccolo qua, il quadrato, è stato Cimilla a volerlo in squadra, avevi qualcosa da dire? No, no, stavo parlando in regia con Giovanni Bruno. E allora dici su cosa verteva questa discussione, perché Giovanni Bruno è un attento, eccoci intanto su Cedric Vassor, è un attento controllore della corsa, secondo lui cosa dovrebbe succedere? Stavamo proprio dibattendo questo, perché non è ancora certa questa tappa, nel senso che non si capisce chi potrebbe attaccare sulla Peresurda, ad eccezione di Ulrich, che non ha nessun interesse secondo me ad attaccare, se sta così bene potrebbe anche farlo, perché l'anno scorso attaccò sulle salita di Andorra, Arcalis, l'anno scorso Ulrich sui Pirinei andò fortissimo, perché nella prima tappa attese Bjarne Riss, mentre nella seconda tappa Pirinaica, Ruppe gli Indugi, attaccò e conquistò la maglia gialla. Mentre Roland Mayer che si sta portando sul secondo gruppetto, quello di Piepoli e di Grande. Stiamo analizzando la corsa, ma chi conquisterà la maglia gialla? Io penso che Ulrich abbia la possibilità di farlo, ovviamente bisogna vedere un po' che gli passa per la testa, secondo me Ulrich in questo momento è prigioniero di pensieri e tentazioni varie, non sa in effetti chi è l'avversario più pericoloso, non sa quindi dove bruciare le sue energie e dove riservarle, e quindi potrebbe essere tentato di dare uno scossone, ma in effetti il terreno poi non è che c'è, perché poi dovrebbe rischiare in discesa. Questo tentativo di Jalaber è stato assolutamente così dimostrativo, forse più per se stesso che per gli altri. E quindi Ulrich secondo me è molto indeciso, continua a guardare la cartina, adesso l'ha fatto anche Riss e il suo compagno di squadra, sono lì davanti senza poi dannarsi l'anima, e secondo me potrebbe anche risparmiarsi, non rischiare e ottenere lo stesso la conquista della maglia gialla. Ed ecco che il gruppo improvvisamente mi sembra si sia rialzato, quindi aumentano le speranze per Elie e Massi di arrivare qui a Luchon? Aumentano, anche se hanno solamente due minuti o poco più di vantaggio sui contrattaccanti, cioè su Di Grande, su Pieppoli, su Farazin, Serrano, guarda che grinta Udo Bolz, come ha gettato via qualcosa che non gli piaceva, questo è Schantur. Allora, eccoci con Ulrich, poi Biarneris, Jalaberth, Valerio Pigioni diceva non sa chi può attaccarlo, ma c'è qualcuno, a parte Pantani, domani in grado di attaccarlo? Secondo me no. No, io penso di no, almeno. Olano non è in grado di attaccarlo, Jalaberth non penso, almeno, bisogna che faccia una bella trasformazione, perché lui nelle tappe dure, dove ci sono tante salite, ha sempre faticato molto, ha sempre preso molti minuti, perché è un corridore che in una salita sola va fortissimo, però quando ce ne sono tante cede nel finale. Quindi non penso che possa attaccare, siamo ormai a 25 km all'arrivo per il gruppo, e il gruppo che ha rallentato, Ulrich raccomanda, almeno ai propri compagni, di andare via tranquilli, non ci sono uomini che possono impenserire, anche perché i primi sono solamente tre minuti, e adesso comincia il Pérez Sur. L'unico che può attaccare è Pantani, Pantani se attacca lo fa sul serio, non come c'è la Bérole Blanc, quando abbiamo visto prima. Quindi l'unica speranza per il tour si chiama Marco Pantani, noi siamo perfettamente convinti di ciò. Purtroppo sì, purtroppo sì. Perché purtroppo? Sì, perché ripeto, se fosse stata la festina, sarebbe diventato più difficile magari piazzarsi meglio, ma più facile fare una corsa, come posso dire, più spettacolare. In questo senso Marco avrà la possibilità di avvicinare più facilmente il podio, però senza avere la speranza di poter ribaltare la situazione. Voglio dire che oggi come oggi, di forza, lo può attaccare solo Pantani, tatticamente lo potrebbero fare Olano, e già la Bérole però è in modo diverso, che non naturalmente in modo spettacolare, come potrebbe farlo Pantani. Quindi Pantani è l'unica possibilità, non solo per il nostro piazzamento, ma per accendere il tour. Pantani è l'unico vero scalatore in grado di impensierire il tedesco, peccato che non ci siano montagne sufficienti per dar modo all'interno di attaccare, di dimostrare a tutti le sue grandi doti, non solo di attaccante, ma proprio di grandi green pair. Sì, infatti anche oggi, ripeto, questa tappa rovesciata sarebbe stata completamente diversa, al 100%. Qui ci portiamo sull'ultimo call con delle pendenze relative, un avvicinamento graduale, si sale a volte 3-4%, poi rispiana, poi si sale, ci sono gli ultimi due chilometri, ma non credo che negli ultimi due chilometri si possa risolvere non solo il tour, ma neanche la tappa di oggi. Udo Bolz, tedesco e l'austriaco Tocci in testa a fare l'andatura, si sono ripresi da quella defaianza provocata proprio dal loro leader. Il vincitore del tour dell'anno scorso si è portato a centro gruppo, ha dato un'azione dimostrativa, adesso lascia che siano i suoi a controllare. Mentre eccoci in testa al gruppo, stiamo attaccando? Stiamo attaccando il Peresur, adesso è di nuovo aumentata l'azione del gruppo, gruppo che è formato da una quarantina di unità. I più numerosi sono i Telecom, che sono cinque Marco Pantani, c'è al fianco Borgheresi, poi c'è anche Nartello, c'è anche Ferrigato, il gruppetto di Pieppoli e di Grande è cronometrato a due minuti e venti secondo dai primi tre. I primi tre che appunto vedete, Cedric Vassor, Maglia Bianca, De La Ganne, il nuovo numero di gara è l'88 con il numero 68, Rodolfo Massi, leader della classifica del Gran Premio della Montagna, in prima posizione Alberto Elli, il numero 66. In classifica generale Alberto Elli aveva otto primi e un secondo di ritardo, mentre eccoci con Di Grande, Piepoli, otto primi e un secondo di ritardo da De Bien, la maglia gialla che di ritardo oggi ne ha accumulato a sufficienza, infatti staccatissimo, tutti i tre leader delle tre classifiche, vale a dire la maglia verde di Zabel, la maglia Poix del Default e la maglia gialla di De Bien sono in ritardo, quindi il ritardo di Elli nei confronti della maglia gialla otto primi e un secondo, 9,4 il ritardo di Massi dalla ex maglia gialla, 9,52 Cedric Vassor. Allora, chi sarà la nuova maglia gialla, Gimondi? Ma io credo Uri, Uri perché ho la sensazione che la telecom stia facendo forcing per vedere eventualmente un contropiede del capitano se non altro per dare delle sensazioni anche ai suoi avversari che sta bene. Davide Cassani, un'occhiata alla classifica generale per poter stabilire chi sarà questa sera il nuovo leader della classifica generale. Sarà Jan Ulrich, quinto questa mattina, i primi quattro sono saltati, De Bieta, Fidurin e Lauca sono a molti minuti, dietro ad Ulrich in classifica c'è Boan Burger che è nelle prime posizioni anche quest'oggi, poi Ulrich a settimo anche lui presente nel primo gruppo anche Jalabert ottavo non ho visto Echimov, non ho visto Garcia Costa o Gredi, Olano dodicesimo è presente, Epner si è staccato e lo era presente anche Berzin presente nel primo gruppo Leblanc era diciassettesimo oppure lui presente adesso sta spingendo a fondo Tocznik, Tocznik con la ruota Jimenez scalatore l'anno scorso campione spagnolo anche Boan Burger in terza posizione pedala molto bene Ulrich in quinta posizione con al fianco Giulic mentre Pantani continua a stare a centro gruppo Ed è Eli ora in prima posizione allora anche tu d'accordo su Ulrich Maglia Gialla Sì mi pare che non ci siano alternative anche perché chi lo segue in classifica è Hamburger che però ha più di un minuto non ci sono buoni quindi è difficile ipotizzare intanto parte Massi volevo dire una cosa proprio rapida per quanto c'è nell'affaire festina è chiaro che dal punto di vista sportivo, agonistico è logico che l'assenza di Virenc, Dufo, Zulle è una perdita importante però bisogna dividere questo tipo di aspetto dal fatto in sé io penso che sia giusto quello che dice Gimondi niente ipocrisia niente pensare che il problema del doping si fermi a un massaggiatore fermato con la macchina piena di sostanze dopanti e che si fermi al discorso festina però ipocrisia a parte bisogna considerare questo affaire festina come un punto di partenza da cui poter ripartire il silenzio non serve non ci dobbiamo vergognare anche di parlare di doping e di combattere questa battaglia pubblicamente con le parole cercando di parlare anche di questo ecco non fermandoci alla corsa credo che sia un insegnamento di questi giorni poi da Alessandro Samech che fa parte dello staff di Pantani sentiremo le ultime notizie su Pantani scatto secco di Massi si erano parlati prima Massi ed Ellie evidentemente Ellie deve avergli detto guarda fai pure la tua corsa perché io non sono in grado di proporre altri sforzi nel finale e di fatti gli ultimi chilometri sono stati tirati tutti dal stava bene sul tourmalet probabilmente ha sentito un po' la fatica Massi invece si è ripreso molto bene tra l'altro è soprannominato Massiccio perché è un fisico veramente una roccia Rodolfo Massi di Corinaldo Marchigiano professionista già da 11 stagioni quest'anno è stato una grande mentre Massi continua però dovrebbe andare un po' più agile è partito col 53 un po' troppo duro mancano ancora 6 chilometri al Gran Premio della montagna Vassero invece sale più regolare con più agilità ecco queste sono proprio le osservazioni che desiderano soprattutto i ciclo amatori che mi continuo a dire Dica Cassani di precisare i rapporti vogliamo sapere poi tu c'è anche una scuola di ciclismo beh sì da quest'anno faccio questi stage con per gente che sia appassionata che va in bicicletta comunque adesso Massi ha un po' rallentato sempre sui pedali Massi Massi lanciato però c'ha sempre il 53 su deve andare più agile perché ormai la fatica comincia a farsi sentire dovrebbe salire un po' più agile e c'è ancora tanta forza perché continua a salire sui pedali come i veri scalatori ed ecco invece in difficoltà Albertoelli allora notizie di Pantani Marco stamattina era molto tranquillo oggi voleva misurarsi con la prima salita è tranquillo perché rispetto all'anno scorso c'ha le salite davanti c'ha meno minuti di ritardo ha una cronometro alle spalle e quindi credo che per lui è positivo ora staremo a vedere stasera dopo questa dopo questa tappa molto importante e domani di tappa importante ce ne sarà una veramente interessantissima tutta da seguire è la Luchon undicesima tappa la Luchon Plateau de Baile Tour arriva per la prima volta sono 170 km con il Col de Mantea il Porté d'Aspe il Col de Lacore il Col du Port e negli ultimi 18 km salita una salita brutale per arrivare a quota 1750 il primo appuntamento domani alle 12.15 dalle 12.15 alle 14 e quindi dalle 15 sino alla conclusione non ce la fa Vasser ha dovuto desistere speriamo che non lo inforchi mentre Massi sta andando su ancora molto molto bene però il gruppo sta rinvenendo il gruppetto di Piepoli e di Grande è cronometrato a un primo i 45 secondi il gruppo di Ulrich a 2 minuti e 20 allora la situazione riepiloghiamo abbiamo Massi solitario al comando con un leggero margine di vantaggio mancano 20 km alla conclusione il Col de Perissur la vetta del Col de Perissur è a 15 km alla conclusione dopo 181 km di corsa per fortuna è proprio il caso di dirlo per fortuna mentre ancora Bogart ha ancora il leader ecco qua Ulrich no dicevo Bogart il campione nazionale olandese mentre Ulrich si ripone in testa un'altra sparata vediamo anche Ries in terza posizione mi sembra di vedere Jalabert in difficoltà e con Ulrich in testa a tirare mini spot opzione UNM 95 da Omniten persone in grado di cambiare il mondo ed ecco l'ulico abbiamo visto nelle prime posizioni agile pimpante fresco pantani veramente un'inquadratura che ci ha dato molta soddisfazione mentre in ritardo Olano Jalabert ecco Nardello eccolo là Jalabert l'allungo vediamo anche Berzin l'allungo la feroce progressione di Ulrich ha decisamente fatto perdere terreno il campione nazionale francese Jalabert Berzin nella scena di Jalabert è normale Jalabert non ha il fondo non ha resistenza quando ci sono tante salite l'ultima la paga sempre il giro delle fiandre saltò a 40 km dall'arrivo l'anno scorso al giro alla vuelta saltò e anche Olano come l'anno scorso non riesce a tenere il ritmo dei primi anche Nardello si è staccato insieme a Casero mentre Pantani mi sembra che stia pedalando molto bene in quarta e quinta posizione c'è Gimenez c'è Leblanc c'è Scartin Baranowski Robè c'è Giulic Pantani lo vedete là in quarta posizione ma è Ulrich a scambire il passo non c'è Riss mentre abbiamo visto no Riss l'avevamo visto prima c'è? si l'avevamo visto ecco la l'avevo visto proprio nella scia avevamo detto in prima posizione Ulrich in seconda Bogert in terza Riss poi Chanteur poi Pantani mentre in testa al gruppo dei più immediati seguitori abbiamo visto ancora Filippo Simeoni dell'Asix che oggi sta andando veramente bene eccolo qua Ulrich poi Bogert sembrava un uomo da corse classiche dell'inizio di stagione invece sta andando bene anche in questo Tour de France poi Bjarne Riss poi Scartin Pantani Pantani è là tranquillo Ulrich che sta facendo l'andatura si volta controlla questa volta ha nettamente distanziato i suoi gregari due progressioni veramente notevolissime da parte del campione tedesco che ora si riporta eccolo qua riprende il gruppo di Piepoli e di di Grande poi la situazione allora un uomo al comando Massi al suo inseguimento abbiamo Vasseur poi è lì e quindi il gruppo che si sta avvicinando è stata ancora questa terrificante progressione di Ulrich a riportare il gruppo in testa sui più immediati inseguitori allora Massi Rodolfo Massi solo al comando mentre c'è Meyer che tenta ancora un disperato tentativo ecco di Grande di Grande si alza sui pedali guarda terrorizzato forse il campione tedesco guardate che grinta concentratissimo una spinge ma Pantani è là il Grande ha guardato il rapporto che sta usando adesso Ulrich è rimasto impressionato no perché vedi l'agilità con la quale riesce ad andare in salita qualche tempo fa c'erano gli uomini che andavano su di forza mi ricordo i no corridori che andavano proprio con dei rapporti impossibili invece Indurain e Ulrich hanno un sistema differente mentre sta per essere raggiunto Rinerot Indurain e Ulrich riescono a spingere i rapporti durissimi in pianura mentre riescono ad andare molto agili in salita questa è anche la loro forza sono riusciti ad allenare madre natura li ha dotati di forza e loro con l'allenamento riescono a spingere in agilità in salita anche perché sono corridori che non sono degli scalatori l'unico modo che hanno per andare forte è quello di curare l'agilità andando in agilità il muscolo lo consumi molto meno e riesci a fare questa velocità intanto Ulrich in prima posizione tallonato da tre italiani Piepoli poi Di Grande e Pantani fa impressione la grinta di Ulrich scelta tattica perfetta tra la penultima e l'ultima salita ha fatto rientrare i compagni poi ha fatto fare il forza in a Tosni e quindi ha già segnalato allora che avrebbe provato lui se non altro a portare ordine al gruppetto di testa sta facendo la cosa più giusta perché cerca di eliminare più gente possibile dando meno spazio eventuali scattisti poi di scattare sull'ultimo pezzo ed eccoci su Massi Massi è sempre in testa quando mancano per lui circa due chilometri al Peire Sourd Massi troppo duro va su ancora col 53 intanto sta per essere giunto sta per essere ripreso Ulrich sta spingendo un 41-19 secondo me ti ricordi i metri? sinceramente adesso no ma penso che sia sui 4 metri più o meno mentre Ulrich va molto più agile seduto non si alza mai sui pedali dicevo prima perché si consuma meno andando agile perché con un rapporto duro il muscolo rimane contratto per un periodo più consistente più lungo quindi il muscolo recluta più fibre e si stanca prima e vedete in prima posizione un passista scalatore Ulrich nella sua scia tre scalatori puri vale a dire di grande Piepoli e scartine scartine quello con la maglia bianco verde e Pantani una differenza notevolissima di stile di rapporto e naturalmente di peso infatti Uri lo vediamo che spinge tranquillamente seduto secondo me non sta andando a fondo perché diversamente sgrettero dovrebbe il blotoncino dietro scalatori con pesi diversi caratteristiche diverse che tendono a salire così sui pedali in danseuse per cercare di rompere continuamente il ritmo cosa che è più facile per uno scalatore che per un passista come Ulrich Pantani lo abbiamo visto nelle prime posizioni mentre tutti si voltano ecco che passa Jalabert con Ardello e con Simeoni abbiamo visto che il tedesco ci ricordava proprio la gestualità di Rudy Alti ieri sera quando ci ha detto quando gli abbiamo chiesto quale sarebbe stata la tattica di Ulrich ci ha detto domani mattina Ulrich si metterà in testa voltandosi a destra e a sinistra guardando Tizio e Caio il che è puntualmente si Ulrich non deve neanche strafare nel senso così lui comincia a avere in pugno la situazione stasera si prende la maglia gialla quindi può gestirla anche domani perché l'arrivo non è proibitivo e pensare che a sua disposizione va bene Alpi ma soprattutto l'ultimo cronometro si volta si volta per controllare Jalabert per controllare Louis Leblanc per controllare insomma quelli che lui ritiene possano essere suoi avversari Ulrich poi Bogart Hamburger Riss Pantani Leblanc Iulis Piepoli e Di Grande nelle prime posizioni di questo gruppo che è alla caccia di Vassor che non è stato ancora ripreso e di Massi che è primo vedete come tiene le mani basse sul manubrio come fosse in pianura adesso le alza le alzate perché ha cambiato il rapporto le levette perché in vero il rapporto sono nella zona dei freni e adesso prosegue comunque non si alza mai sui pedali lui una faccia imperscrutabile mentre Bjarne Riss ha cominciato a aprire la bocca comincia a essere in affanno Bjarne Riss tiene molto bene di grande mentre gli unici di quelli che erano al contrattacco che sono riusciti a rimanere con Ulrich e compagnia sono di grande e Piepoli e Pantani naturalmente ecco la maglia gialla continua a voltarsi guardare e decidere se deve continuare o meno nella sua progressione Ulrich in prima posizione di grande in seconda Piepoli in terza poi in quarta posizione vediamo Pantani eccolo qua di grande questo è Piepoli questo è Escartin si volta Riss poi ecco Pantani poi eccoci con Luc Leblanc poi Bogaert e Jurek nelle prime posizioni va veramente forte questo americano va forte molto va forte a cronometro va forte in salita mentre Bogaert adesso sta ritornando sotto il team a Robè Leblanc sempre anche lui con un rapporto omicidiale Jimenez Maglia Banesto Pantani anche lui con le mani basse che tiene solamente quando si alza sui pedali Pantani si alza continuamente sui pedali è un regato di 56 kg è frescatta parte Pantani avevamo ipotizzato l'attacco di Pantani per domani ecco che sull'ultima salita su quelle del Peire Sur lo avevamo accennato avevamo detto l'unica possibilità per Pantani è cercare il contraattacco sul Peire Sur ha lasciato sfogare il campione tedesco poi nell'ultimo tratto parte parte alla grande vi avevamo anche detto che la discesa è pericolosa è lunga ma Pantani ci ha ormai abituato a questi suoi scatti e viva gli scalatori qua bisogna che gli organizzatori si mettono in mente che per interessare la gente per dare un po' di interesse devono mettere più salite sta per prendere Vassera è un grande Pantani sempre stato in coda nelle tappe in piane ma quando c'è la salita viene fuori non c'è niente da fare è il più forte mentre ormai Massi è un chilometro dalla vetta vediamo se riuscirà a conservare un po' di vantaggio se lo meriterebbe questo successo di tappa ecco che Pantani ormai nella scia di Cedric Vassera anche lui si volta troppe macchine davanti a lui possono rallentargli l'azione abbiamo detto 15 chilometri di scesa prima di arrivare a Luchol Vassera ormai stravolto dalla fatica non può assolutamente neppure tentare un breve recupero e siamo nella scia di Pantani scatellatissimo uno scatto uno scatto secco gli è bastato per fare il voto bravissimo si troppo bravo io direi che Pantani è uno scalatore forse più grande di tutti i tempi perché stiamo vedendo la facilità con quale riesce a fare certe azioni questa non era certamente una salita adatta ai suoi mezzi perché non presentava grandissime pendenze dobbiamo dire che tatticamente ha corso in modo perfetto ha fatto lavorare giustamente Ulrich il favorito e poi quando ha visto la possibilità di poter dare un colpo gliel'ha dato magari non concretizza niente ma questo sicuramente apre un dialogo turco che è molto importante è un dialogo che sicuramente continuerà domani perché ci sono 18 km di salita nel filale e non perdetevi la tappa di domani perché nella tappa di domani sicuramente Pantani il pirata andrà all'attacco come è andato all'attacco in questa tappa che non è certamente adatta alle sue caratteristiche ancora 50 secondi di vantaggio per Massi 50 secondi che aveva un chilometro nel primo della montagna quindi aumentano le possibilità per questo marchigiano di Corinaldo di vincere una tappa sarebbe fantastico se lo meriterebbe perché è partito nella prima salita sull'Obisca ed è ancora qui al comando è stato bravo anche Ellie insieme a lui con Vassera hanno fatto questa lunga fuga a tre è a tutta Pantani sta andando molto più forte di lui però siamo in vista il Gran Premio della montagna 15 km all'arrivo il Gran Premio della montagna e dobbiamo dire che un premio un giusto premio Rodolfo Massi lo ha avuto questa sera vestirà lui la maglia di leader del Gran Premio della montagna ecco notate la differenza di stile di potenza mani basse soltanto Charlie Gaule era in grado di azionare questi rapporti con questi scatti mentre vedete il gruppo degli seguitori in ultima posizione nel quale vedete Luc Leblanc Bogaert poi Chimenez poi eccoci con Bjarne Rissan che Urric si è un po' calmato vediamo un po' cosa succede la regia rimane nella scia mentre eccoci su Massi Massi lanciato verso il Gran Premio della montagna del Col dei Piri Sorda gli italiani all'attacco sui perenei Pantani ha già vinto una tappa sui perenei nel 95 vinse a Gouzé Neige l'anno scorso invece due tappe sulle Alpi Alpe d'Uest e Morzin l'Alpe d'Uest arriva in salita Morzin invece dopo aver scalato il Col dei Jouplan c'era una discesa di 10 km e vinse più o meno la tappa di oggi per quanti si fossero messi in ascolto in visione in questo momento Rodolfo Massi sta superando in prima posizione il Col dei Piri Sur mancano 15 km alla conclusione mentre dal gruppo è uscito Pantani Pantani che ha un ritardo di una quarantina di secondi ecco vedete sulla destra il cronometro ufficiale che scandisce il ritardo di Pantani nei confronti del gruppo mentre questo è il terzo gruppetto nel quale è rimasto Urrich il campione tedesco Urrich che aveva fatto selezione con una serie di progressioni micidiali poi ritrovatosi senza compagni non è riuscito neppure a resistere al primo scatto di Pantani Pantani ecco lo che passa in seconda posizione il suo ritardo 38 secondi 38 secondi in ritardo di Pantani due italiani in testa all'Otur de France non ha reagito nessuno allo scatto di Pantani è partito troppo forte troppo deciso era il tratto più difficile gli ultimi 3 km del Pére Sur Ulrich è continuato con la sua progressione dietro invece fanno già fatica a stare a ruota Ulrich criteriamoci se riescono ad andare a ruota a Pantani intanto adesso è Escartin che si è portato all'inseguimento un primo e 3 secondi per Escartin mentre questa volta Ulrich si volta vediamo Ulrich poi Piepoli poi eccoci con Bogaert vediamo il ritardo 1 e 20 allora 1 e 20 il ritardo del gruppo da Massi quindi una cinquantina di secondi hanno perso 50 secondi in 2 km in 2 km adesso è Baranowski che prova d'altronde avevamo detto l'unica possibilità attenzione perché per Pantani lo avevamo ipotizzato in una possibile finale di tappa l'unica possibilità per Pantani è scattare in vista del Gran Premio della Montagna del col dei Pére Sur e tentare poi il tutto per tutto in discesa Pantani ci ha già abituato ad attacchi del genere attacchi che poi aveva portato vittoriosamente a conclusione per essere un peso leggero è un grande discesista e dopo tutto quello che ha passato in discesa va veramente forte l'anno scorso quando vinse la tappa di Morzin staccò tutto in salita ma incrementò il vantaggio in discesa è un grande Marco l'ho detto anche prima perché quando lo chiamano lui risponde sempre presente ha vinto il giro d'Italia la grande non se lo aspettava nessuno invece ha stravinto ha strameritato il giro d'Italia questa tappa se la meriterebbe di più Massi e anzi penso che riesca a vincere Massi perché è partito fin dalla prima salita e ha tenuto quindi si rinviterebbe questo successo comunque l'azione di Pantani è di buon auspicio perché vorrebbe dire innanzitutto guadagna il terreno su Ulrica Olano e Zalabert si sono staccati poi domani c'è l'arrivo in salita Platò de Bey è come quello che è ancora più importante la dimostrazione che Pantani non si è seduto sugli allori molti pensavano chissà come arriverà al Tour de France è demotivato ha pagato due o tre giorni di ambientamento e poi Pantani eccolo là col suo caratteristico stile in discesa sentiamo da Gimondi che di campioni se ne intende un giudizio su Pantani si soprattutto questa sua mentalità di correre questo l'ho notato stando di vicino ultimamente da leader qui ha dovuto pazientare anche qui dieci giorni prima di poter dare un segnale un segnale estremamente positivo e dobbiamo dire la prima occasione lui ha risposto presente ancora una volta questo fa pensare bene per il futuro di questo Tour e adesso mini spot si sente quando è estate ed eccoci ancora su Pantani mentre Leblanc perde quota saluto il collega Valerio Piccioni inviato speciale della Gazzetta dello Sport raggiunge la località dove posta la sala stampa questa stranissima posizione si volta dall'altra parte è un purista Gimondi non può vedere cose del genere non sono un purista però andiamo a rischiare oltre i limiti nel senso basta prendere uno nocciolo davanti che tu avendo tutto il peso indietro vai sicuramente sbandata se per di più c'è la strada bagnata vuol dire rischiare troppo considerando che sta dando dei segnali positivi guardiamo avanti senza rischiare per guagnare 5 secondi in più è la stessa tesi che aveva sempre Adorni quando vedeva questa posizione di Pantani si perché tu metti tutto il peso sulla ruota posteriore alleggerendo nottovelmente l'anteriore strada bagnata se tu non equilibri bene i pesi è facile che ti parta la bicicletta davanti allora due italiani al comando quando ormai mancano poco più di 10 km alla conclusione poco meno di 10 km alla conclusione Marco Pantani in questo momento ha un distacco di 37-38 secondi quindi tiene molto bene Rodolfo Massi ecco qua i 10 km 10 km alla conclusione due italiani al comando Massi al cui inseguimento si è portato con un'azione veramente entusiasmante Pantani uno scatto secco avete vi ricorderete certamente le progressioni di Urric ecco dalla progressione di Urric del passista scalatore lo scatto fulminante del Green Per puro vuoto e in 2 km 40 secondi di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori eccolo là il Pantani che ci aspettavamo il Pantani che desiravamo il Pantani che sicuramente infiammerà questo Tour de France è un fenomeno perché dopo il Giro d'Italia non ha più corso sono state ha fatto 5 settimane a casa si è allenato dopo aver fatto 10 giorni di recupero recuperativo si è preparato non ha neanche partecipato a campionati italiani ha portato si è allenato con Fontanelli Conti con Siboni tutti i compagni di squadra si è allenato duramente al prologo andava molto piano anche perché non aveva la brillantezza per affrontare una prova del genere però la squadra gli è stata vicino e sono sempre stati in coda al gruppo per non incappare in cadute che avrebbero potuto provocare un'uscita di Sena di Marco Pantani e alla prima vera salita è venuto fuori attenzione a 42 secondi da Massice Pantani a 1.24 il gruppo intanto avete visto la perfezione dell'organizzazione che ha subito mandato accanto a Pantani la moto per il cambio ruote con un percorso così difficile così pericoloso non si può pretendere che le ammiraglie o comunque anche le macchine dell'organizzazione si possano portare nella scia del corridore all'attacco ed ecco perché entrano in funzione queste moto allora 40 secondi bravissimo Massi diciamo merita la vittoria la merita perché è all'attacco da stamattina merita la vittoria e merita anche la maglia di leader del Gran Premio della Montagna come merita un grande applauso Pantani una dimostrazione incredibile figuriamoci Zaccheroni che abbiamo sentito ieri primo tifoso di Pantani figuriamoci cosa starà succedendo in questo momento a Cesenatico non è mai stato così tranquillo Marco rilassato il Giro d'Italia era molto teso sentiva il peso della risonsabilità che ciò nonostante non gli ha tolto la forza perché ha vinto qui invece si è presentato con forse la vittoria del Giro gli ha dato questa sicurezza ma per nulla cosa c'è cosa c'è un niente temevo che avesse qualche crampo tornando a Pantani per nulla preoccupato sereno tranquillo sempre in coda del gruppo ma anche finita la corsa l'abbiamo sentito anche ieri proprio alla conclusione della tappa era ha detto ha detto Martinelli non mi sembra neanche di essere al Tour de France più che altro mi sembra di essere alla Bergamasca per quanto per nulla per nulla teso e questa questa tranquillità gli ha permesso di fare questi primi dieci giorni senza spendere eccessivamente ed è qui che a questo punto è l'unico antagonista secondo me alla vittoria finale di Jan Ulrich e poi non si sa mai la vita perché anche Gimondi 33 anni fa venne al giro di Francia per partecipare e poi vinse e andò all'attacco con Van de Kerkhove poi Van de Kerkhove si ritrovò ecco che esce Ulrich Ulrich ha capito che è rimasto intrappolato con un gruppo che non può dargli assolutamente una mano Ulrich si porta decisamente in testa con Bogart splendido questo finale chissà cosa succederà domani con la strada in salita e Scartin viene ripreso da Ulrich Ulrich che forse ha intuito in ritardo ma d'altronde contro gli scatti degli scalatori puri non c'è niente da fare ha fatto bene subito secondo me l'ha intuito l'ha detto non c'è niente da fare con gli scatti che l'ha più intuito subito non ci sono dubbi perché gli ha schizzato via a doppia velocità al Gran Premio Lantagna ha avuto anche la sensazione che cercava quasi la collaborazione e in particolare stava cercando Ulrich il che vuol dire che anche lui era un pochino in difficoltà e cercava questo contributo anche così morale per cercare poi di tamponare il più possibile in discesa direi questa tappa sta dando due risposte importanti al ciclismo italiano la vittoria di Massi ma sicuramente la presenza di Pantani che ci fa sperare per il futuro e diciamo che Pantani deve dire grazie a Ulrich perché proprio grazie alla progressione del tedesco si è sgretolato il gruppo sono arrivati tutti alla fine della salita al gancio e puff è partito Pantani si finalmente da Codaman altronde se Ulrich parte favorito e ha questi vantaggi delle cronovatra è anche giusto che faccia la corsa e che Pantani di conseguenza corra di rimessa in un certo senso evidente però che Pantani che risponde alle prime tappe del giro appena abbiamo avuto salita che risponda subito alla prima tappa del tour quando c'è salita questo è il segnale che siamo di fronte a un'altreta di un certo spessore io non vorrei però far passare in secondo piano la grandissima impresa di Rodolfo Massi pensate questo ragazzo sembrava che dovesse abbandonare anzitempo l'attività agonistica dopo la terribile caduta al Giro d'Italia allora riepiloghiamo le tappe siamo a 4 km dalla conclusione ripetiamo riepiloghiamo le tappe della carriera di Rodolfo Massi con la speranza di vederlo vincere lo merita e naturalmente l'attacco di Pantani bellissimo ma a livello umano dobbiamo augurarci che Rodolfo Massi riesca a concludere vittoriosamente questa tappa Rodolfo Massi è nato a Corinaldo il 19 settembre del 65 a 33 anni e la sua seconda partecipazione al Tour de France mentre siamo a 3 km l'arrivo per Rodolfo Massi 2 in discesa l'ultimo chilometro in pianura è passata professionista nel 1987 era una promessa poi nel 98 un gravissimo incidente nella tappa del Giro d'Italia Santa Maria Capo Avetre si rupe il femore perse un anno poi passò l'Atala la Riostea la Giolli il primo successo dal professionista l'ha ottenuto nel 94 una tappa al Giro di Sicilia Giro di Sicilia che poi vinse anche la classifica finale poi ha vinto una tappa al Giro d'Italia nel 1996 a Prato anno dove vinse anche una tappa al Giro del Trentino poi nel 97 si è trasferito in Francia ha vinto l'Altovar l'anno scorso erano in fuga in 3 lui, Jalabert e Virenk li ha staccati tutti è arrivato da solo poi quest'anno ha ottenuto 4 successi ha vinto il Giro del Mediterraneo ha vinto la seconda tappa e la classifica finale del Giro della Calabria e ha vinto anche la tappa in salita del criterium internazionale tutte vittorie nel mese di febbraio marzo e aprile poi ha fatto uno stop è andato in Messico 15 giorni si è preparato in altura a 2000 metri ed è sceso e Tarsim aveva proprio il dottor Tarsim Tarsim medico mi aveva proprio detto che Massi stava molto ma molto bene e lo sta dimostrando merita questo successo la prima tappa virenaica pensa che è stato sempre bersagliato dalla sfortuna 5 o 6 anni fa in una tappa al Giro d'Italia erano in campagna il gruppo era in lunga fila indiana lui era a metà gruppo attenzione scusa perché vedo in coda Ulrich ha dato il cambio ha dato il cambio però è in coda in coda e vediamo che ha qualche problemino a livello crampi sei d'accordo Felice? ma forse più che a livello crampi ha qualche problemino col mezzo ho paura che tra l'altro accettano un ruoto non delle migliori in discese che io non sceglierei mai che è Leblanc non è un grande discesista quindi è sempre meglio averli dietro poterci che abbia avuto qualche sbandato o qualcosa perché diversamente uno che deve prendere la maglia gialla non sta in coda al gruppetto ultimo chilometro per Rodolfo Massi vogliamo ricordare che tra i dilettanti lo scoprì lo lanciò Fred Mangoni che lo aveva appunto preso nella sua formazione la Fred Mangoni USA Mark mentre tra i professionisti ebbe come primo maestro Franco Cribiori e adesso finalmente dopo tanta IEL vogliamo ricordare che praticamente al comando un marchigiano e un romagnolo tutti e due bersagliati dalla sfortuna tutte e due vittime di grandissimi incidenti la serietà la professionalità di questi due atleti li porta oggi Massi finalmente al meritato trionfo Pantani che si presenta come l'unico in grado di impensierire un ricco chi la dura la vince tornando al cane ti dicevo era il gruppo lunga fila indiana questo cane è venuto fuori lui era metà gruppo beh è venuto fuori quando stava passando Massi caduto si ruppe la clavicola anche lì hanno andato a monte si volta cerca di vedere se qualcuno sta arrivando ancora poco poi finalmente potrà tirare un sospiro di sollievo la vittoria tanto attesa meritata dopo tanta sfortuna per Rodolfo Massi marchigiano 33 anni sembrava che avesse smesso di correre sembrava che dopo la caduta non ci fosse più nessuna speranza una grave caduta per Massi una grave caduta per Pantani tutte e due alla grande in questa tappa ed è la terza vittoria di un italiano in questo Tour de France se Cipollini è l'uomo che esalta per le vittorie in uno sprint Massi una vittoria estremamente umana estremamente sofferta 10 lode per Massi 10 lode per Pantani Pantani che domani rivedremo all'attacco in una tappa a lui più congeniale Pantani che ieri si era avvicinato al nostro microfono con grande calma tranquillità ci aveva raccontato tutto quello che voleva fare ma nessuno sinceramente si aspettava un Pantani così grintoso motivato a Pantani secondo a 36 secondi gli ha staccati tutti è bastato uno scatto e nessuno è riuscito a resistere ecco lo sprint per il terzo posto vedete Ulrich sulla destra al centro c'è Bogert poi nella scia di Borgert c'è Ulrich lo statunitense poi gli altri due giovani di grande Ulrich Bogert e poi di grande poi vediamo che Ulrich si piazza in fondo al gruppo alle spalle di Ulrich si è piazzato Piepoli ha guadagnato 23 secondi Marco Pantani su Ulrich quindi questa mattina aveva un distacco di 5 minuti e 4 secondi questa sera 23 secondi meno ma soprattutto la dimostrazione che ha dato nella salita in una tappa non sua prima tappa Pirenaica ha riuscito a staccare tutti gli altri domani c'è l'arrivo in salita 18 chilometri e prima di quella salita tante altre salite veramente c'è da divertirsi c'è Nardello in questo gruppo una giornata ecolano al centro una giornata veramente entusiasmante primo Massi secondo Pantani primo Massi per il cuore Pantani per la classifica sicuramente una grande impresa quella di Massi che ha avuto anche lui una grande rivincita se così possiamo dire ed ecco che arriva Gellaber sulla sfortuna e poi dietro una grande conferma quella di Marco Pantani una conferma per tutti i sportivi italiani e noi ci auguriamo di rivederlo ancora e presto all'attacco dobbiamo dire che i due italiani hanno dovuto concedere qualcosa al gruppetto in discesa perché era una discesa molto veloce e dove scendere in gruppo era sicuramente più vantaggioso in questo gruppetto c'è Simeoni gruppetto guidato dagli uomini della lotto con Cedric Vasseur nelle prime posizioni vediamo che in ultima posizione in Piepoli 59 secondi da Massi il gruppo di Urric e quando abbiamo detto 22 secondi ha guadagnato Pantani la classifica generale aspettiamola allora Pantani dovrebbe essere settimo in classifica generale con un distacco di 4 minuti 41 secondi sul